Una partita che ci aspetta domenica di quelle toste si fa in casa della capolista Geraci. Che partita sarà secondo te? Secondo me, come tutte le partite di questo campionato, saranno partite molto dure, molto da affrontare con squadre che sono veramente attrezzate per questo campionato. Soprattutto Geraci e Ganci che si giocheranno nel campionato, quindi di conseguenza domenica sarà veramente dura. Però noi siamo il Bagheria e andiamo a affrontare questa partita come sappiamo e come giochiamo a calcio, come fa il Bagheria. Ma chi ha da perdere di più nella partita domenica? Il Geraci o il Bagheria? Da questo punto di vista molto da perdere il Geraci, perché noi andiamo lì per farci la nostra partita come abbiamo fatto fino adesso. Chi rischia di più in questo caso è il Geraci, perché si gioca il primato della classifica del campionato di promozione. Quindi in questo caso è il Geraci che è da perdere, molto da perdere. Cosa doveva fare il Bagheria per uscire in denne dal campo di Fasanò? Dove giocheremo con il Geraci? Giocare da Bagheria. Giocare perché come abbiamo affrontato le ultime due partite che abbiamo giocato da Bagheria, abbiamo cominciato a girare palla anche quando il campo non ce lo permette. e i risultati sono arrivati. Sono arrivati in entrambe le partite, contro il Ganci, che era un secondo in classifica, comunque uno dei pretendici al campionato. È arrivato contro la Stefanese in un campo difficile come quello di Santo Stefano. Stefanese, ricordiamo, nel frattempo ha bloccato anche il Geraci nel recupero. Infatti, come da quello che si è visto, anche se dicono che il campo era un po' impraticabile, però non è facile vincere lì. Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo vinto facendo una degna partita e meritatamente. Meritavamo forse qualche gol in più, anche se c'era molto vento, però comunque abbiamo giocato con palla a terra e abbiamo giocato a calcio.